andiamo a presentare all'angolo blu il Dorsa Patroncini Marroni con strisce bianco, rosse e verdi con un record formato da tre incontri con due vittori e una sconfitta per un totale di 14 che non ha commissato e l'allenato dal maestro Franco Ghetti che l'ha accompagnato all'angolo che è nato in Mondova ma anche in Italia da Sesto San Giovanni Vati Gurao all'angolo rosso indossa Patroncini blu e gialli con un record formato da nove incontri con sette vittori di 2-2 per K.O una sconfitta e un pari per un totale di 47 round box anni è la prima ripresa per un totale di 4-3 per K.O. 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 per un totale di 5-3 per K.O. per un totale di 4-3 per K.O. per un totale di 4-3 per K.O. Grazie. 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 E' la seconda ripresa. Box! Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.